La parabola velenosa di Volpe nel sesto minuto di recupero sorprende Romagnoli e regala al Potenza un pareggio prezioso sul campo della Virtus Franca Villa. Finisce 1-1 il derby a Pulo Lucano della nuova Red Arena. Potenza che trova il pari allo scadere dopo il gol del vantaggio dei padroni di casa. Firmato da Minelli al 22esimo del primo tempo. Out Patierno. Partita ad alta intensità e ricca di occasioni con l'andata in scena di fronte due squadre divise da due soli punti. Dopo 5 minuti grande spavento per Cardoselli. Brutto movimento della gamba. Problemi al ginocchio destro per lui. Al suo posto entra Macca. Prima azione degna di nota al 19esimo con Maiorino che al termine di una bella combinazione calcia dal limite sfiorando il palo. Al 22esimo punizione per i pugliesi. Calcia ancora Maiorino. Deviazione della barriera. Traiettoria che diventa un assist per Minelli. Colpo di testa e rete del 1-0. Virtus Franca Villa che festeggia ma al 39esimo il Potenza risponde con il colpo di testa di Murano da pochi passi. Specchio non inquadrato. All'intervallo conducono i ragazzi di Calabro. La ripresa si apre con l'acrobazia di Sbraga. Al 51esimo pallone al lato. Un giro di lancette dopo. Macca risponde per la Virtus. Gasparini para in due tempi. Al 53esimo padroni di casa pericolosi su corner. De Marino di testa. Tutto solo mette sul fondo. Grande chance mancata. Al 57esimo Mendes si mette in proprio ma la palla non gira a sufficienza. La Virtus non troverà doppio ed il Potenza prova ad approfittarne al 59esimo. Conclusione di Calia centrale e facile per Romagnoli. Al 65esimo invece Volpe col destro a giro coglie il palo. Occasione che spaventa la Virtus che torna in avanti ma al 72esimo Mendes incredibilmente sotto rete colpisce la traversa. Era a porta sguarnita. Nel finale succede di tutto. Al 93esimo lancio in avanti. Schimmenti addomestica la sfera e la mette in rete. Potenza che esulta per l'1-1 ma l'assistente di gara alza la bandierina. Proteste dei Lucani e fuori gioco. Sembra finita ma al 96esimo Volpe da lontanissimo inventa una parabola velenosa che sorprende Romagnoli. Pallone in rete e 1-1 triplice fischio ma il finale è in tensione. Virtus Francavilla che conserva la zona playoff nel prossimo turno sarà trasferta a Cerignola. Buon punto per i ragazzi di Mister Raffaele che domenica prossima affronteranno in casa la Viterbese.